Polemica a Pescara da parte del centro-sinistra che critica l'evento calendarizzato per sabato 16 ottobre a Palazzo di Città per la presentazione del libro di Edda Negri Mussolini, nipote di Benito Mussolini, che presenterà la sua ultima pubblicazione dedicata alla nonna Rachele Mussolini. Il centro-sinistra ricorda infatti che nello stesso giorno a Roma ci sarà una manifestazione contro tutti i fascismi dopo l'assalto subito dalla sede della CGL. A Pescara si fanno passare per innocue delle azioni che invece non hanno niente di innocuo ma sono studiate alla perfezione per far passare subdolamente alcuni messaggi che in realtà sono chiari. Questo è un esempio, il problema non è il libro, non è solo il libro di una nipote che racconta della nonna, il problema è che questa nonna era la moglie di Mussolini e il problema ancora più grande è che viene presentato da un'associazione che non conosciamo, che ha un nome che mi fa sorridere, un nome particolare, ecco che ha un nome particolare, circondata da motti, da annunziani, un APS, si presenta come un'associazione di promozione sociale ma non è ben chiaro veramente qual è l'obiettivo dell'associazione o quali sono gli obiettivi di questa associazione. Quindi chiediamo di fare luce, oltretutto ripeto un'operazione che mi sembra un'operazione di revival, nostalgica, nello stesso giorno della Shoah di Roma e della manifestazione contro i fascismi io non credo sia opportuno. Non si è fatta però attendere la risposta del presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, che ha spiegato come la data dell'evento. Era stata scelta oltre un mese fa prima dei fatti di Roma, aggiungendo che oggi più che mai proprio alla luce di quanto accaduto nella capitale sarebbe importante mantenere i toni bassi. Si sta facendo una polemica assolutamente inventata perché l'individuazione della data da parte degli organizzatori, che è un'associazione culturale di Pescara, risale ai primi di settembre. Quindi la concomitanza è del tutto casuale, fortuita, che non è una manifestazione politica, è la presentazione di un libro su una figura storica di questo Paese, cioè la moglie di Benito Mussolini, che non sta al presidente del Consiglio valutare il contenuto dei libri, perché altrimenti il presidente del Consiglio Comunale diventerebbe una sorta di censore. Io non credo di dover ricoprire questo ruolo, pertanto chi risponde ai requisiti previsti dal regolamento, il diritto di utilizzare la sala consigliare, peraltro a pagamento, perché l'associazione ha anche già pagato la tariffa corrispondente. Se ci sono ragioni di ordine pubblico, che io non riesco peraltro a considerare appieno, ci sono delle autorità in questo Paese deputate a intervenire, eventualmente a far slittare la manifestazione, ma la competenza non è mia. Credo davvero che faremmo bene tutti a tenere i toni bassi. Mi pare che di polemiche e di clima acceso già ce ne sia troppo in questo Paese, quindi almeno chi ha ruoli istituzionali bene farebbe, ripeto, a versare acqua sul fuoco e non benzina. Non c'è nessuna provocazione, in realtà siamo in presenza della presentazione di un libro, come ho appena ricordato. Però il sindaco, mi scusi, presidente Antonelli, proprio in questi minuti, attraverso un comunicato stampa, ha preso un po' le distanze da questo evento? Il sindaco può prendere le distanze dall'evento, ma l'evento non è organizzato dal Comune di Pescara, non è organizzato dall'amministrazione, tantomeno dalla presidenza del Consiglio, perché altrimenti potremmo andare a verificare anche la concessione delle sale, come dire, di competenza del sindaco e della Giunta, a chi vengono concesse queste sale. Non mi pare che sia questo il tema, francamente, ripeto, io terrei i toni bassi e eviterei di fare una tempesta in un bicchier d'acqua.